Ha suscitato qualche polemica la presenza dell'assessore all'istruzione Donatella Buonriposi nella mensa della scuola media Carlo del Prete di Sant'Anna. I genitori non hanno ritenuto opportuno definire una sorpresa il controllo che l'assessore ha voluto personalmente effettuare sul cibo per valutarne la qualità, ma anche per constatare il livello di gradimento da parte degli insegnanti e soprattutto dei ragazzi. Siamo certi che oggi i bambini abbiano mangiato bene, ha fatto sapere il comitato di protesta Buonipasto, mettendo in dubbio che la dirigenza fosse del tutto ignara di questa visita. Il comitato ha inoltre tenuto a fare chiarezza su una delle dichiarazioni rilasciate dal dirigente Graziano Angeli nel corso dell'ultimo incontro tra rappresentanti dell'amministrazione comunale e genitori. Il 27 gennaio, infatti, questi ultimi avevano portato all'attenzione dei presenti che la scelta da parte del comune di ricorrere all'acqua del rubinetto rispetto a quella in bottiglia non aveva comportato alcun ribasso nell'importo dei voucher. Secondo Angeli, a fronte di un risparmio di 3.000 euro annuali per l'acquisto dell'acqua confezionata, il comune sosterrebbe adesso una spesa di 7.000 euro per effettuare analisi fisico-chimiche sull'acqua servita. La ASL, però, prescriverebbe questo tipo di controlli soltanto a quelle imprese alimentari che utilizzano acqua non proveniente dagli acquedotti, ma da pozzi e da sorgenti private. In ogni caso, il costo delle analisi dovrebbe essere inquadrato come costo generale dell'esercizio in sicurezza dell'attività scolastica, quindi, si precisa nella nota stampa, non deve e ne può gravare sul bilancio del servizio mensa. Sotto il mirino del comitato di protesta sarebbe anche la frequente contrapposizione di angeli tra genitori e città, come se i genitori, si legge, fossero strane figure che chiedono alla città di partecipare al costo del pranzo dei bambini e non parte integrante della comunità. ...è più soggetta a nicotidore o a scipparti. Grazie. ...